Genitori in protesta per il taglio di una classe alla scuola media Chelini di San Vito. Per l'anno scolastico 2022-2023 saranno infatti attivate solo 5 prime contro le 6 sezioni degli anni precedenti e nonostante la crescita degli iscritti, passati da 113 a 122. Quindi inevitabilmente il dirigente scolastico ci ha palestato il fatto che l'anno prossimo ci saranno classi di 24-25 studenti in media, molti dei quali certificati, quindi si è palestato anche facendo i nostri approfondimenti la possibilità che si superino addirittura i tetti legati alle prescrizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, al testo unico in salute e sicurezza. La situazione, secondo quanto motivato dal provveditorato agli studi di Lucca e Massacarrara, sarebbe dovuta al generale Calo Demografico che ha costretto a un ridimensionamento dei fondi destinati alle scuole primarie, dallo Stato alle regioni e poi dalle regioni alle province. I genitori della scuola Chelini, numeri alla mano, chiedono però chiarezza ed hanno contattato oltre al provveditorato locale anche la dirigenza regionale. Abbiamo chiesto anche di conoscere quali sono i numeri complessivi della provincia di Lucca e degli istituti della stessa città, perché pensiamo e auspichiamo che la scuola possa essere fruibile alla stessa maniera per tutti i ragazzi. Aspettiamo delle risposte, risposte ma anche soluzioni. Nella trasparenza della pubblica amministrazione la suddivisione di fondi e delle riduzioni dei fondi c'è dovuta insomma, ma al di là delle risposte che in qualche modo comunque meritiamo, noi vogliamo delle soluzioni. Cioè non è possibile affrontare a valle di questi anni bui altri tre anni di scuola media con classe pollaio da 25 a 26 persone, con bambini anche con delle difficoltà.